ciao un saluto a tutti sempre nell'ottica di segnalare per il 2021 titoli che hanno subito una discesa importante quindi un lungo down trend e che comunque sono dei titoli storicamente importanti vediamo air france e qui siamo su un time frame settimanale dove si evidenzia lo vedremo ancora meglio sul mensile come una dopo una lunga fase di discesa dove si è arrivati in area 2 euro 60 per azione abbiamo avuto uno strappo rialzista fino al livello dei 550 uno strappo rialzista per quattro settimane di fila con volumi sostenuti ora c'è una in atto una chiara fase di pausa della ripresa del trend della probabile inversione trend durante questa pausa appunto correttamente i volumi sono sono in calo ma quello che è evidente lo si vede ancora meglio sul grafico mensile il titolo che nel 2007 quotava circa 37 euro adesso si trova in area 5 euro e cosa molto molto importante è data da due fattori di analisi tecnica il primo è che il livello che è stato testato in area 2 60 3 euro è un livello supportivo statico che il prezzo ha sentito andandolo a riprendere e contestualmente per chi chiaramente segue l'analisi tecnica che spesso facciamo vediamo come la candela bearish ribassista questa con un piccolo corpo e poi la successiva fortemente rialzista con volumi importanti ecco queste tre vanno a formare un pattern di inversione a una una morning star accentuatissima con la terza candela che chiude a molto molto ampiamente al di sopra della prima quindi abbiamo un pattern rialzista adesso una normale fase fisiologica di ritraccio credo che quindi ecco a e franza sia un titolo da posizionare già praticamente da subito in portafoglio oppure per chi volesse attendere un eventuale ritratto aspettare area 4 euro e 10 4 euro e 20 è importante chiaramente andare a calcolare la size perché perché lo stop loss per evitare sprese deve essere comunque al di sotto dei minimi del pattern quindi in area 2,50 e quindi si rischierebbero all'incirca 2,80 per ogni azione 5 euro ma un primo target di medio e lungo periodo è in area 10 euro e quindi avremmo un rapporto rischio rendimento di 1 a 2 e rischieremo 2,50 euro di stop loss contro 5 euro di possibile target per cui è sicuramente un'interessantissima posizione che si può acquisire su Air France un saluto a tutte